Sono 85 i casi di dengue accertati a Fano. La situazione viene monitorata dall'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria. Sono aumentati rispetto a ieri soltanto perché ci sono pervenuti i risultati di campioni biologici che avevamo inviato il 15 settembre all'Istituto Superiore Sanità. Quindi sono pervenuti questi risultati ma si riferiscono a casi che noi già precedentemente avevamo considerato come possibili. Dopo tre disinfestazioni effettuate dal Comune ora inizia la fase che vedrà il coinvolgimento di privati e cittadini. Abbiamo iniziato un'azione larvicida dopo quella autulticida ed è fondamentale che anche i cittadini nelle proprie abitazioni private ci aiutino con le azioni all'interno delle proprie abitazioni. Nella prossima primavera una nuova campagna di prevenzione. Da marzo dovremo iniziare un'azione larvicida in tutta la città di Fano. È un'azione che dovrà essere capillare coinvolgendo tutte le associazioni della città e anche con un ruolo sicuramente diverso da parte di Aset, la nostra azienda dei servizi, che si è dimostrata disponibile a prendere in gestione tutta la parte, ad esempio, della disinfestazione e anche della prevenzione. La maggior parte dei casi sono stati accertati nel quartiere Vallato. L'esperto spiega il motivo. Perché visto da un epidemiologo o da un parassitologo, quel quartiere lì ha una conformazione che può essere considerata tropicale in determinati momenti dell'anno. È ombreggiato, è innaffiato e quindi c'è un'alta umidità. Lì la zanzara tigre trova esattamente le stesse condizioni che trova nelle foreste di bambù del sud-est asiatico da dove origina. Quindi è molto lontano dal punto di vista estetico, molto vicino dal punto di vista funzionale.